A Morgani già sfida il Vettice tra due formazioni candidata alla vittoria finale. Conacchini e Venturi si sfidano con ugual modulo 4-3-1-2. Da una parte Pera e dall'altra Quassi si mostreranno a nostro avviso i migliori in campo. La gara diretta da Mori di Laspezia vede il protagonista subito la formazione nero-verde. Quassi avanza con i palloni tra i piedi tentativo dalla distanza per lui che si alza sopra la porta a difesa da De Gori. Al sesto a primo vera a fondo i padoni di casa bucano la porta a difesa da Ricco. Sponda di testa e Pera con un tocco morbido beffa l'estremo ospite trovando la prima marcatura in stagione. I complimenti da parte dei compagni. I forni a questo punto gioca in scioltezza. Gergos appoggia per Petrucci, traversone per la testa di Pera che mette di poco a lato. Andò l'illusione del gol al pubblico locale. Dall'altra parte Giordani avanza con i palloni tra i piedi. Porta spasso mezza difesa più a di centrali in legno alla destra di De Gori. La partita è bella da vincente dalla bandierina verde arriva a colpire di testa. Ricco evita il numero 18 il secondo gol di stagione rifugiandosi nuovamente in corner. Su versante opposto Artioli appoggia per Gemmi. Grasventola la sua che sfiori il palo alla destra di De Gori. Su fine di tempo Quassi serve Giordani. Da posizione defilata l'attaccante chiama la guardia all'attento De Gori. Squadre a riposo solo 1-0. Nella ripresa il calcio di punizione di Artioli beffa l'incerto De Gori. Ristabilendo la parità in campo. 1-1 a questo punto il parziale. Dall'altra parte dall'angolo battuto da Petrucci. Verde colpisce di testa sfiorando nuovamente la marcatura dopo il tentativo a corso nel primo tempo. L'aglianese si rivede. Apertura di Quassi. Appoggio finale per il numero 9 Brega. Si posiziona l'attaccante per il tiro. Una conclusione centrale. Alto invito per Brega a cura di Quassi. Tiro a botta sicuro da parte numero 9 con De Gori che ci mette i guantoni. Il Folì prova a vincere la partita nel finale. Lungobardi recupera la sfera. Appoggia per la corrente Pera. Il pallone del possibile soppasso. Ma l'ex recanatese spedisce a lato. Ancora Pera protagonista. Domestica la sfera. Si gira. Va alla conclusione. Pallone fuori di un nulla. Termina qui una gara dove entrambe le compagini hanno provato a superarsi. Ottime trame di gioco. Difese chiamate all'attenzione anche se i due gol sono frutto di due sbavature. Con Acchini e Venturi si dividono al suo dimodoro. L'intera posta in paio.